buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è mercoledì 15 novembre 2023 come corre questo mese abbiamo già così nell'aria l'atmosfera di natale qualcuno già acceso qualche luminaria in anticipo ovviamente per fare festa ma il tutto sarà così pronto ancora più evidente nell'ultima domenica del mese di novembre quando poi si accenderà l'albero di natale a fano in piazza 20 settembre ma la stessa cosa poi accadrà anche in vari centri della nostra regione oggi chi si festeggia lo vediamo subito nella grafica e sant'alberto magno sant'alberto visse nel tredicesimo secolo e tante cose dottore della chiesa dominicano fu maestro di santo maso d'acquino fu vescovo di ratisbona predicatore pacificatore sant'alberto dicevo fu tante cose ma soprattutto si distinse per una vita trascorsa in preghiera e per essersi dedicato al miglioramento spirituale dei suoi fedeli quindi un uomo che ha coperto incarichi di grande importanza ma che è rimasto sempre un uomo semplice un uomo che dedicava la sua vita alla sua fede ma così come si fa con tutti i giorni senza niente di eccezionale santa d'alberto magno vediamo ora le previsioni del tempo ecco la grafica non abbiamo tanto sole nella regione marche ma sarà comunque una giornata piacevole senza perturbazioni evidenti ci saranno alcune nuvi sparse al mattino i venti saranno moderati al pomeriggio tesi da nord ovest il mare poco mosso le temperature 15 la minima 18 la massima il sole solgerà tra breve alle 7 08 e tramonterà alle 16 e 42 abbiamo la prima pagina del resto del carlino sulla nostra scrivania e vediamo subito l'apertura milioni per l'alluvione ma al torrente a zilla solo gli spiccioli c'è stata una riunione ieri in prefettura a cui hanno partecipato diversi diversi responsabili per la cura e la manutenzione del torrente responsabili del comune di fano responsabili della regione responsabili tecnici ma anche alcuni rappresentanti del comitato dell'arzilla ovvero quelli che rappresentano i residenti che si affacciano sul torrente i quali sono veramente più preoccupati per la situazione contingente di questo torrente che può esondare da un momento all'altro cosa si è deciso si è deciso anzi lo si sapeva perché poi c'è stato un finanziamento ingente che il generale commissario figliuolo ha dato al comune di fano 15 milioni per sopperire ai guasti prodotti dall'alluvione ma per quanto riguarda il torrente a zilla solo 500 mila euro che verranno dati al consorzio di bonifica tramite il comune di fano però per la manutenzione per la manutenzione ordinaria insomma sembra che non ci siano soldi ma vediamo il titolo come caratterizza questo articolo milioni per l'alluvione abbiamo detto sono 15 ma al torrente a zilla solo gli spiccioli 500 mila euro metà risorse di figliuolo allo scolmatore il resto a ponte sasso incontro in prefettura per fare il punto sui rischi del corso d'acqua e c'è stata almeno la soddisfazione del comitato perché in questa sede di riunione si sono definite le competenze chi deve intervenire a far sì che il torrente a zilla non crei problemi ebbene allora la cura e la manutenzione del tratto urbano spetta una volta per tutte all'amministrazione comunale al di fuori del tratto urbano spetta ai frontalieri e che possono rivolgersi anche al consorzio di bonifica per interventi di straordinaria manutenzione quelli molto costosi ebbene la competenza è della regione Marche questo per quanto riguarda l'arzilla ed ora vediamo le altre notizie c'è un articolo di cronaca che viene che rimbalza un po' su tutti i giornali quello che riguarda un rapporto sessuale violento il protagonista è stato condannato si tratta di un 27enne che ha avuto tre anni e quattro mesi e poi e poi e dunque tre anni quattro mesi di reclusione per violenza sessuale e al pagamento di un risarcimento nei confronti della vittima di 30 mila euro ed era un ragazzo che aveva avuto una relazione un po' turbolenta con la sua fidanzata in questo caso si parla di una notte e un rapporto in macchina all'inizio consenziente poi la ragazza si era rifiutata e il ragazzo aveva insistito e quindi qui c'è stata la violenza e nell'articolo viene revocata la storia di questi due giovani e del loro turbolento rapporto la giovane era già stata picchiata dal partner e quindi sarà risarcita con 30 mila euro e poi un episodio veramente eccezionale si è svolto ieri a Lucrezia una persona ha sparato un colpo di pistola in aria sembrava che fosse una pistola vera in realtà era uno scacciacani ma ci sono stati momenti di paura ieri intorno alle 18 e 30 nei pressi del bar e della vicina farmacia la farmacia di Lucrezia di Cartoceto lungo la Flaminia insomma nella trafficata arteria della Flaminia il bar è quello del Peter Pan la farmacia è la sella l'uomo un operaio di 26 anni di calcinelli in stato forse di alterazione aveva bloccato è stato bloccato dai carabinieri dopo che aveva sparato ed è stato insomma il timore la preoccupazione di tutte le persone che erano lì presenti alla scena e c'è stato del bello e del buono per i carabinieri per riuscire a fermare questo giovane che è andato in escandescenza e si è ribellato all'azione delle forze dell'ordine alcuni testimoni hanno riferito di un alterco scoppiato nel bar e poi perseguito in strada anche se si fa strada in un primo momento l'ipotesi di una tentata rapina però smentita dal farmacista insomma tutte le ragioni per cui questo ragazzo ha esploso questo colpo di pistola devono essere veramente verificate intanto calcinelli piange la scomparsa di ordonzelli sport in lutto ieri si sono svolti i funerali di questo appassionato di sport nella chiesa santa croce aveva compiuto 84 anni e fu per anni dirigente anche dell'alma juventus fano oltre che dell'apav di calcinelli lucrezia l'uomo che fece la unione tra le due società decreto ingiuntivo al comune non pagò i lavori della scuola ebbene questo è accaduto a terre roveresche il comune aveva fatto dei lavori aveva commissionato dei lavori per l'opera di ristrutturazione dell'edificio comprensivo di orciano lavori che dovevano essere pagati in due stralci ma questa somma non è stata mai pagata dal comune ovviamente la ditta ha fatto ricorso al tribunale e il giudice ha così emesso un decreto aggiuntivo un decreto ingiuntivo scusate perché il comune onorasse appunto quanto doveva alla ditta e capita anche questo non capita solo ai privati ma capita anche al pubblico ed ora parliamo di un evento importante siamo a pergola a pergola ci sono diverse cose molto importanti per tutto l'entroterra il museo dei bronzi dorati l'ospedale ma anche e soprattutto il liceo Torelli il liceo scientifico una dependance del Torelli di Fano ma un presidio importante per tutto il territorio da lì sono usciti studenti che poi hanno raggiunto ruoli di grande prestigio anche a livello superiore di quello locale ebbene 60 anni sono una data importante l'istituto venne fondato nel 1963 quando fu istituita l'allora sede distaccata dello scientifico Marconi poi nel 70 fu aggregato invece al Torelli di Fano ed ora si fa una grande festa il comune con i dirigenti della scuola hanno organizzato un convegno ci saranno poi degli illustri relatori poi ci sarà anche l'inaugurazione l'esposizione della mostra dei fossili intestata appunto al Monaco a cui era intestato il liceo stesso il liceo scientifico poi denominato Torelli e poi alla fine musica una pericena insomma per fare festa e saranno tanti gli alunni e anche gli ex alunni che parteciperanno a questa iniziativa a Pergola. Passiamo ad Urbino. A Urbino c'è un articolo che riguarda l'andamento meteorologico l'andamento del tempo manca l'autunno quest'anno l'autunno non c'è stato si è passati direttamente dalla estate dal caldo al freddo l'autunno manca l'appello del nostro clima i dati e le valutazioni della università una media così alta in ottobre c'è stata solo nel 2003 nel 1966 la pioggia 67,5 mm e questi sono i dati e poi i dati vengono riproposti in questa tabella comunque è una stagione diversa una stagione eccezionale quella che si è alternata alla stagione estiva dove il caldo vi ricordate ha superato i 35 gradi ed è stato un vero tormento. Giriamo ancora la pagina e siamo a Cagli. A Cagli abbiamo delle rimostranze del Comitato per la Salute Pubblica rappresentato da Marcello Mei. Per le scelte sanitarie a Cagli abbiamo chiesto cose ragionevoli. La prima è il contenuto della preoccupazione per l'attuale carenza di personale sanitario e poi si chiede il potenziamento dell'emergenza urgenza, la realizzazione di un ambulatorio chirurgico a chirurgia breve, il day surgery, il potenziamento degli ambulatori specialistici. Insomma una serie di esigenze che non sono eccezionali ma sono quelle che sono il minimo per un'assistenza sanitaria decente in una zona dell'entroterra che ovviamente è meno servita di quella sulla costa. E intanto l'Ateneo di Urbino presenta oggi frammenti inediti di Dante, frammenti inediti della Divina Commedia che sono stati rinvenuti nell'archivio di Stato, quindi un importante appuntamento di cultura. E c'è un altro importante appuntamento culturale al Museo archeologico di Cagli dove i bronzi tornano virtualmente. L'anno ormai giunge al termine portando con sé un capitolo significativo nella storia del Museo archeologico di Cagli, a prendo nuove porte per l'intera comunità e tutto questo grazie al progetto Erasmus. Ed ora diamo un'occhiata anche alle notizie di Pesaro dove si parla di Villa Marina. Ecco qua l'articolo. L'ex intendenza insegna un telone a Villa Marina come quello in piazza. Sappiamo che Villa Marina, questo grande complesso che sorge in Viale Trieste, è da tempo in disuso, è decadente, occorre ristrutturarlo, c'è un progetto in atto, anzi i lavori dovrebbero cominciare. E per così impacchettare tutto lo stabile che ora è stato così fornito di queste impalcature, sarà posto un telone, un telone con la riproduzione della facciata come era in origine, un telone come quello che è stato issato nella facciata dal demanio dell'ex intendenza di finanza in piazza del popolo. Oppure per quello accadrà con la stazione ferroviaria che dovrà essere anche questa ristrutturata. Insomma un telone per dire qui c'è un cantiere, qui si fanno i lavori e avete pazienza se l'immagine non è molto bella perché quando poi si demolisce, si ricostruisce ci sono dei problemi. Ebbene a Villa Marina dovrebbero sorgere degli appartamenti. E intanto vengono ristrutturati a Pesaro anche tre hotel che erano chiusi da tempo. Si tratta dell'hotel Sporting in via Nazario Sauro e poi l'hotel La Bussola e l'hotel International. La doppia operazione, nuova vita per tre hotel, oltre 200 posti letto che vengono rimessi in esercizio. Ospedale di Muraglia, risico, servizi, la scuola infermiera non si tocchi. È un'altolade e 5 stelle che chiedono lumi all'assessore regionale. Già durante la pandemia il corso fu spostato. Il tema della presenza degli infermieri, soprattutto della loro qualificazione, è particolarmente importante nell'assistenza sanitaria in quanto il personale è strettamente ancorato poi con la collaborazione dei medici. I soldi per la città a strade Collabrodo arrivano a 450 mila euro, una goccia nel mare. Sono pochissimi e le strade di Pesaro non versano in migliori condizioni di quelle che sono nelle altre località della provincia, incluso Fano. Vediamo qui alcuni asfalti deteriorati, l'attraversamento pedonale di via Gorizia in zona Porto. Porta il pedone oppure la persona che lo traversa in carrozzella a muoversi a zig zag per evitare buche e fessure che poi impediscono il passaggio o fanno inciampare i pedoni. Vediamo anche un altro articolo ed è una festa, una festa per una discoteca famosa, il Colosseo di Montecchio. Una data significativa, così come il liceo di Pergola festeggia i 60 anni, il Colosseo di Montecchio ne festeggia 40 e ci sarà una grande festa. la discoteca ha aperto i battenti il 31 dicembre 1983 e rimarca a questo avvenimento l'ex DJ Roberto Venturini. Questo per quanto riguarda il resto del Carlino. Ora apriamo il Corriere Adriatico. Vediamo l'apertura dedicata alle agevolazioni per l'Atari. Ci sono delle famiglie che hanno presentato richiesta per avere contributi dal fondo anticrisi. Ebbene, sono state tante le famiglie. 575 domande sono pervenute al Comune, ma i fondi a disposizione non bastano per tutti. Quindi il Comune ha dovuto fare una graduatoria in base all'Eise, scartando ovviamente quelli che non rispettavano i criteri del bando e quindi la somma delle persone che riceveranno questi contributi si è un po' ridotta. Il Comune stila una seconda graduatoria per gli eventi diritto fuori del budget. E poi asfaltature, Via del Fiume, tra le priorità dopo la segnalazione dell'Udc, l'assessore Brunori assicura l'intervento. Ebbene anche Via del Fiume, una delle vie più degradate di Fano, di grande passaggio perché poi mette in comunicazione la città con la zona industriale di Ponte Metauro, costituisce appunto una via di prossimo intervento. Vediamo poi l'articolo dell'ubriaco che violenta la sua ragazza, il 27enne violento che appunto ha fornito, che si è presentato davanti al Tribunale di Pesaro e di cui abbiamo già parlato. Abbiamo già parlato anche dell'intervento della Prefettura che dà la sveglia per gli interventi sull'Arzilla, rimpalli tra Comune e Regione. E poi una dichiarazione di Walter Durpeti, il Presidente del Comitato dell'Arzilla, è stata fatta a chiarenza sulle competenze e questo l'abbiamo già visto. E poi, grazie ad un'azione della CNA, un responsabile dell'ANAS, si tratta dell'ingegnere Lamberto Nicola Nibbi, ha detto che lavori di cura e di manutenzione verranno fatti anche sul versante marchigiano della Galleria che costituisce il passaggio del punto più alto della Contessa. E qui vediamo appunto il punto critico che è ancora oggi oggetto di lavori, di manutenzione. Speriamo che la Contessa la aprano al più presto. Marotta, niente scuola al sabato, un sondaggio tra i genitori per decidere. La proposta è di alcuni genitori delle medie fa di Bruno che è stata sottoposta al voto. Piano piano sono sempre più le scuole medie che così adottano la settimana corta, anche se a molte persone non sta bene perché ci sono poi i genitori che lavorano anche il sabato e così non riescono poi a dare l'assistenza dovuta ai ragazzi che rimangono a casa. Sono sempre ragazzi minorenni che non possono essere lasciati soli. Anche sul Corriere Adriatico abbiamo le celebrazioni per i 60 anni del liceo scientifico di Pergola, appuntamento a teatro all'Angel del Fuoco per questo convegno, con questo convegno che tratterà il tema Le frontiere dell'intelligenza artificiale, etica e scienza a confronto. Vediamo anche la pagina di Senigallia. Nelle piazze lo show, videomapping, poi la pista di ghiaccio e le casette. Si parla ancora delle iniziative per il prossimo Natale, iniziative che cominciano tra breve, cominciano subito e il Comune ha già definito i dettagli del pacchetto di iniziative, appunto per Natale, ci sarà anche il cielo stellato. E questo videomapping che negli anni scorsi veniva proiettato nelle facciate delle case, quest'anno viene proiettato invece sul pavimento e sarà bello camminare su immagini in movimento e anche su questo bellissimo cielo stellato che farà molta atmosfera di Natale. Videomapping tra Piazza Roma e Piazza Garibaldi proiettato a terra e non sui palazzi, mentre nel parterre della Rocca Roveresca verrà allestita la pista di patinaggio sul ghiaccio. Quindi anche qui un bel programma di iniziative per Natale. Vediamo rapidamente le notizie che riguardano Pesaro. Anche sulle Corriere Adriatico si parla di Villa Marina, sbloccata l'impasse, in quattro si fanno avanti, sono le aziende che partecipano al bando emesso dal Comune. Adesso si valuteranno le offerte e i lavori dovrebbero cominciare tra non molto. Cotignola 2 a Villa Fastigi c'è il progetto, una nuova struttura sanitaria a Pesaro a Villa Fastigi tipo Cotignola. Insomma una struttura importante per cercare di ridurre almeno la mobilità passiva. È in arrivo il nuovo centro Maria Cecilia Hospital. È frutto del colosso della sanità privata che ha avviato l'iter in Comune. Serviranno 80 posti letto, ecco i reparti richiesti. Dunque è stato definito il progetto della clinica Maria Cecilia Hospital Pesaro che dalla Romagna è pronta a riprodursi in nuova versione di Villa Fastigi. Insomma un Cotignola 2 calata nelle esigenze della realtà marchigiana. Un nuovo ospedale è in arrivo dunque nella città di Pesaro grazie ad una convenzione accreditata nei confronti della Regione Marche. Il progetto, lo vediamo un attimo, si articola in due direzioni. La riconversione della residenza socio-sanitaria e reabilitativa Cives venduta al gruppo CIVM di Cotignola dal consorzio di cooperative Villa Fastigi che ha gestito, lo ricordiamo, tra mille difficoltà i 90 posti letto è l'acquisto di un terreno della coppia del labirinto e questo è dunque è un punto. Poi per i nuovi spazi serviranno alcune varianti urbanistiche per così far sì che tutto l'itinerario si concluda al più presto, ma quando si parla di varianti ovviamente il tempo che ci vuole è piuttosto lungo. Vediamo anche quest'ultimo articolo di cronaca, saccheggia la Chiesa e ruba le offerte, ma al processo il parroco lo perdona. Si tratta di un ladro che ha rubato le offerte in chiesa e nei locali parocchiali. Il fatto risale al 17 gennaio quando nella chiesa di Osteria Nuova di Monte Labate, che cosa è successo? È successo che il parroco sentendo dei rumori è sceso dalla sua abitazione nei locali della chiesa e ha trovato un uomo che frugava tra gli arredi in cerchio appunto delle elemosine. Lui si è giustificato dicendo che stava curiosando ma in realtà stava rubando. Ebbene di fronte al giudice il parroco cristianamente che cosa ha fatto? Ha rimesso la querela, lo ha perdonato sperando che non lo faccia più. E poi un'ultima notizia, chiediamo Targa System sulle strade e telecamere nelle zone più a rischio. Lo dice la presidente del quartiere Filippini che consegnerà le firme raccolte dopo i furti a Colombarone. Colombarone è stata messa a suo quadro da diversi tentativi di furti ed ora corre ai ripari. E questa era l'ultima notizia. A questo punto chiudiamo i giornali e io vi do come sempre appuntamento a domani alle 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci.